No, boh, senti, è una distribuzione internazionale. Ti garantisco fila fuori del cinema e posti in piedi dentro. Tequila! Guarda lo chiaro e troncia che ha. Non lo sopporto. Lo critichi tanto, ma poi gli assomigli. Ma me lo dici che cazzo combinerà la vita questa qua? Alla sua età. Io andavo a lavorare tutti i giorni, da frascati a Roma, in bicicletta. E grazie. E tutta in discesa. Buon oggi, buon oggi. Sì, sono la raga Nelly. Allora, cosa abbiamo incassato? Tutto portatevi, almeno lo incartate un po'. Signore, tutto questo non serve a coprire neppure un terzo del bebito di suo marito. Guarda questi, credono sempre di fare film. Ma lasciatemi giocare un pochettino. Tutta una vita passata corri solo dietro ai soldi. E allora perché ti sei messa con lui? Che bello stai dita, se no te lo ammollo io, non c'è favore, sai? Anche la zuffa! L'ammazzo. L'ammazzo lui, ammazzo lei, ammazzo tutti quanti. I pesci. E le ammazzo ancora? E voilà la zuffa! Questa è roba da impenditori. Signora, se vieni a Firenze, gli fa trovare delle bistecche che sembra mantelline da carabiniere. È un disastro. Possiamo continuare così quanto ti pare? Io ero il produttore e basta. Ma piove, l'estate finita, la gesto non al cinema. Mi avete tanto criticato, te e tua madre. Ma alla fine non si mangiava mica male? Alla maison. Alla maison. Alla non si mangiava ma una cosa. Alla meno. Alla meno.